Non vorrei dire nulla ma penso che siamo di fronte alla versione di nascondino più bella e figa che si può fare su Minecraft Dopo tanto tempo siamo riusciti ad arrivare, secondo me, alla perfezione Anche secondo me è certo E vi faccio capire subito perché Allora, noi siamo qua, c'è questo bellissimo divano della DecoCraft Io faccio... Wops E nominate cosa posso fare? Mi ci posso nascondere sotto Avete capito bene Ci si può nascondere letteralmente in ogni punto della casa, in qualsiasi posto Sotto qualsiasi cosa è fantastico Però, però, costa caro perché se vedete io in questo momento sono anche lentissimo Corro in base alla grandezza che ho Quindi se voglio ad esempio scappare dovrò tornare alla mia grandezza normale Correre e fare così Capite bene che gli inseguimenti saranno divertentissimi Esatto Ok? Questa è davvero una figata Allora Fere, la casa è enorme, mi sa che ci sono tipo due piani dove nascondersi Sono due piani e un sacco di stanze Stef Ok Tutto ovviamente è arredato e quindi avrai tutto e di più per nasconderti Ok, chi parte a nasconderti? Inizi tu? Mi nascondo io? Sì dai, così fai vedere subito ai consolini come funziona Va bene Mi metto all'ingresso, mi giro, guardo fuori il bel panorama e tu inizia Ok Quanto abbiamo per nascondersi? Eh... Poco dai, poco Sì, 10, 15 secondi Direi che può andar bene Una trentina di secondi, no? Ok, ok Anche se poi te l'ho detto è davvero facile nascondersi da così piccoli Quindi vai Fatto Già fatto? Sì Ok Allora, 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 vediamo dove può essere Mi fa male per lei, mi fa male per lei Allora, io direi un timer di tre minuti, sì? Sì Giochiamo un po' alle solite regole Ok, allora aspetta che io ne metto e mi sto mettendo il timer Tu cercami pure e ti do anche questi secondi extra Perché sinceramente non è che sia molto preoccupato E i consolini sanno perché non sono preoccupato Perché è impossibile che mi trovi a fare fatto nascondire Di quelli che proprio lo vedi e fai no Ma stai zitto Allora, ti sei nascosto molto velocemente Quindi non puoi essere andato troppo lontano Caro caro Steph Non puoi essere andato troppo lontano Potrei essere anche dietro di te Che non mi vedresti mai Ma no, non lo sei Stai zitto Lo so che non lo sono Ma è per farti capire Che non c'è speranza Fere Partiamo subito con un 1-0 Lo devi accettare Seduta stante Perché tu non puoi fare nulla No, Fere Che fantasia che hai Davvero una roba incredibile Steph Per favore Ma per favore Cavolo È il primo posto in cui dico Vai a vedere Tu ci sei lì dentro Così piccolo Ciao Salve Da meritavi Senza neanche possibilità di correre Bene Mi hai fatto comparire In mezzo alla foresta Non è colpa mia Beh sì che è colpa tua Non è colpa mia Potevi tranquillamente non uccidermi Ero piccolino piccolino Carino carino Che cavolo mi ammazzi Sono andato benissimo Ok Vai fare parti Tirati Ok Sono molto fesso Eh ho notato Mi dispiace per te Sono molto fesso Però Mi hai trovato in circa un minuto Ti trovo in 45 secondi Allora Non so bene dove voglio andare Voglio trovare qualcosa di molto particolare Eh sì ok ma è poco eh Cinque secondi devi essere nascosta Aspetta Ho quasi fatto Quattro Devo solo Tre No aspetta Sono troppo piccola Non riesco ad arrivarci Io ho avviato Ci arriverò prima che tu arrivi Allora Secondo me Consolini Dato che Fer è prevedibile È al piano di sopra Punto uno Le piacciono le batterie E dai E quindi è qua Però posso scappare Ciao Steph Perché eri così veloce scusa? Fede sei velocissima Non lo so Fede Mi sono rinascosta Non mi troverai mai Ma ha barato Non mi troverai mai No non ho barato Steph Eri velocissima Eh non lo so Sono tornata normale Non ho fatto niente di strano Non ho fatto niente di strano Non lo so perché sono così veloce Non mi troverai mai adesso Steph Eh no non poteva durare così poco Il mio nascondiglio Ma io in realtà so la zona in cui sei Quindi Qual è la zona? Dai Steph Sponi Prima o poi ti trovo Sei al piano terra E fin qua Lo sappiamo tutti Non mi troverai mai Non ci sei neanche vicino Steph Ma neanche per idea Parla quella che è stata trovata in sette secondi Ma stai zitta Pieno di sopra L'importante Riprende Giuro Posso uscire da qui Oh mio dio Adesso non sono super veloce Evidentemente è un buff che mi ha dato prima Vai via Steph Vai via Finalmente l'ho accapotata Come promesso l'ho trovata in meno tempo in quanto lei mi ha trovato Quindi Torna lì Vai Girati No non mi gira Girati Vado a vedere dove ti nascondi Sei banale Vai Ok Allora aspetta che mi devo mangiare anche una bistecca E questo non conta nel tempo per nascondersi Ovviamente Ovviamente Ok Allora Sì credo che qua potrebbe andar bene Stiamo a vedere se funziona Non so se si può fare ciò che io sto pensando Non lo so Steph Vedi un po' O che dite voi Un po' azzardato vero? Un pochino è azzardato Fatemi vedere un po' Mi sembra rischioso Mi sembra rischioso Consolini Mi sembra davvero troppo rischioso Vabbè Fede vai Ok Speriamo bene Io non so perché dopo che sono morta mi va tutto a scatti Speriamo bene Sì Perché mi va molto a scatti Steph Vabbè Cercherò comunque di trovarti Ok Nel fuoco Nel fuoco Nel fuoco Perché no Su 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 Fede 30 secondi sono andati No è davvero odioso con questi scatti però eh Ma perché ti scatta? A me non scatta Fede Non lo so Il bug che hai fatto prima Ti ha flippato tutto eh Può essere Non l'ho fatto io Appena finisce Che succede? Allora qui c'è una porta aperta In realtà ho aperto le porte al primo round Ah e non le richiuse Esatto Di proposito così ti confondevo Mi spiace Ai 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 Mi sa che ci siamo con una zero Consolini Mi sa che ce l'abbiamo fatta Questa volta l'abbiamo fregata Non ci ha visti E quindi Ah ho messo di scattare Più o meno Più o meno Più o meno? Sì Ok Come si sta il piano di sopra? Allora hai detto che è aperto tutte le porte Sì Quelle del piano di sopra non le è aperte Quindi secondo me non sei qui Ah O perlomeno sei sotto qualche divano Tra questi nel corridoio Interessante È un'ottima teoria Un'ottima teoria Continua a teorizzare Mentre Steph sta nascosto e vince Grazie Perché No non vincerei mai Siamo a 0 a 0 Devo prendere vantaggio Il prima possibile Perché non è così facile A nascondersi Ok sei minuscolo Ma c'è anche tanta visibilità Nei nascondigli che ci sono Quindi Non è banale Consolini Non è banale Come può sembrare Secondo me si è messo magari Un lavandino Siamo un minuto e trenta Lavandino Beh bella teoria Bella teoria Bella teoria Adesso è importante fare l'1 a 0 Perché piano piano Noi conosceremo Sempre di più la casa E diventerà sempre più difficile Trovare un nascondiglio Che non ci si aspetta Quindi o faccio adesso Il vantaggio O potrebbe finire in pareggio La partita Ma stai zitto Che la stai prendendo pure seriamente Certo Toppati la bocca Certo devo vincere Allora 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 Ho molta paura Ho molta paura Perché paura? Perché sei al piano terra Io sono al piano terra Quindi ho paura di essere trovato Perché io vedo la tua scritta Capito? Quindi so quando sei al piano terra Sì ovviamente io non vedo la tua Tu eri al piano di sopra A due ore E ero tranquillo Se riesci dal piano terra Mi inventa una paura incredibile Perché le porte erano chiuse Tu mi hai dato l'indizio Che hai aperto le porte Di proposito Andrò ad aprire anche le altre Al prossimo round Come vieni a farle tutte Eh due minuti e trenta Quindi è soltanto trenta secondi E il piano terra Non è che sei dietro il bidone Perché da lì non ti posso vedere No Fere Io controllo Fere sta andando a controllare Sì Mi dispiace dirti una cosa Che cosa? Che mi sei passata di fronte Una cosa come sette volte E certo è ovvio Non è che mi dici qualcosa di nuovo Però vado dietro i posti Che io non posso vedere da grande Non lo so No no Te ero proprio di fronte Fere Te ero proprio di fronte Torna all'entrata Hai perso Hai perso 1 a 0 per Steph 1 a 0 per Steph Ce l'ha fatta Steph Steph lo sapeva Non è vero Non è finito il round Sì Sono passati tre minuti Non me ne frega niente I tuoi tre minuti Eh no che cosa conta? Fatti gli affari tu Niente Vai dove c'è il pianoforte? Eri lì in quella stanza vero? Ah il pianoforte proprio Mi vedi? Qua ero così Ciao Fere No Perché è la schiscura Lo so È sul nero con fondi Lo so Sono disgraziato Opla Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Fere spero che mentre mi cercavi Hai trovato un bel nascondiglio da utilizzare No sinceramente non ci ho pensato troppo Però ci penserò Vada pure vada pure Ti lascio tutto il tempo che vuoi per nasconderti Perché sono gentile Sai chi è in vantaggio deve esserlo Allora io Non mi ricordo Dov'è una cosa Ok Perché ce l'ho in mente dall'inizio Ma non mi ricordo Se è il primo o il secondo piano Capisci? Capisco Capisco È un problema gravissimo Proviamo se si può fare una cosa È proprio un problema grave Sì 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 Fai tutto quello che vuoi Io sono qua pronto Con il mio bellissimo cronometro Ancora niente? Che noia cercare di nascondersi da così piccoli Lo so ci vanno un sacco ad entrare nei posti Consolini si sta concentrando tantissimo È proprio tanto 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 Non avevo mai visto concentrarsi Ho rotto qualcosa quindi no Forse non lo posso fare È rotto qualcosa? Ah non la vedevo più però c'era Vabbè niente niente Quindi è fallito L'ho provata a nascondermi dietro una cosa Ma evidentemente non faceva Ok Ok Anche io quando volevo entrare nel pianoforte Nella parte più interna del pianoforte Non potevi Potevi ovunque Tranne che che ho fatto No io mi volevo nascondere dietro una trapdoor Però poi sparisce quando sei piccolo Quindi non lo so se funziona o meno Ok Sto cercando una cosa precisa Ma non mi ricordo in che stanza è Perché l'ho visto fin dall'inizio Ho detto mi voglio nascondere lì Non mi stupisce Però cavolo l'ho perso Steph Come faccio se ho perso una cosa In cui mi volevo nascondere Ah forse l'ho trovata Di sicuro far aspettare me e i consolini Non è la migliore Ce l'hai fatta? Aspetta mi devo posizionare però in un punto Sì perché io vorrei avviare Credibile Fatto Vado? Fatto Avvio? Sì Avviato Tre minuti Ok Non so perché ma immagino che sia di nuovo sopra È bello il pieno di sopra Ci sono tante stanze Istinto Apriamo tutte le porte Così Fere non saprà più Come ragionare dopo Ok Ci pensa ora le cose dopo Steph Sì sì perché tanto Non ho problemi a trovarti cara Questo è un bel nascondiglio Secondo me Sì Non so come si veda da fuori Però da dentro mi sembra un bel nascondiglio Ok Ok È difficile controllare sotto Senza perdere tempo Te l'ho detto Per quello dovresti diventare piccolino Anche tu e cercare di vedere Nel nascondiglio in cui tu non puoi vedere da grande È molto complicato eh Ti fa perdere tanto tempo Ok 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 No nel fuoco si prende danno Steph Penso anche da piccolo Sì 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 immagino di sì Non penso che c'ho affari Però si avve un bel nascondiglio vero? Sì bello bello Perché lì non ti vedi di sicuro ma penso che prendi fuoco Eh per di tempo Steph Per di tempo Ricontrollo anche il mio stesso nascondiglio Che non si sa mai Che non si sa mai Giustamente Con la signorita Ok no Quindi in questa stanza non c'è È il mio timer Sì cara Un minuto e quindici Ok Quindi A metà del tempo No un pochino di più Un pochino di più per Steph Un pochino di più Sarebbe bello dentro una tazzina Non ti interessa Non ti interessa Soprattutto perché Steph Ti ho visto Manca Un hit Vieni No Siamo troppo piccoli però Che schifo E mori Non mi prendi Non mi prendi Oh Che schifo Steph Un minuto e quarantacinque Ci sei andata vicino Non era male il bigliardino eh Non era male come idea Era bello Volevo fare il giocatore Hai visto? Eh sì però Non è che è proprio una bella idea Perché? Era carino Era carino Non si intende fare il giocatore Perché? Non la so Non la so Avrei dovuto avere anche la divisa da calcetto Se avessi avuto quella Se le sta perfette Capisco Allora Sei pronta? Sì Ti nascondi? Vai Cioè mi nascondo? No ti nascondi tu Steph Vai Oh mamma mia Non capisci nulla Allora Vince solo la fortuna Perché poi è chiaro Che non capisca nulla Cioè è chiaro come il sole Peccato Sarebbe stato Fanny Sarebbe stato molto Fanny Sarebbe stato molto Fanny Molto Fanny Non so neanche di cosa stai parlando Lo so Fanny Infatti tu non sei Fanny Tu non sei Fanny I consolini sono Fanny Ma tu non lo sei Hai fatto? Non vuoi fa? Aspetta sto sperimentando al momento Ok Non distruggere La mia arte No no Aspetta Aspetta Sarebbe stato Epico Con Sorini Sarebbe stato Comunque c'è anche da dire Che ci sono altre dimensioni Mica sono tutte qua Si può diventare ancora Più piccoli di queste Beh ovvio 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 E magari qualche altro nascondino Lo facciamo proprio in miniatura Scandalosa Proprio minuscola Grandezza atomica Eh esatto Cioè tipo che non ti vedi Neanche se stai guardando in terra Capito? Quello sarebbe divertente Ci potrebbe stare Dovrebbe provare anche altre grandezze Ci potrebbe stare Ok Vediamo se qua fa A fare quello che avevo pensato Vediamo Sta passando il tempo Stef Non ci puoi mettere due giorni No sono d'accordo Però sai sto sperimentando Eh io ho sempre fatto Nascondigli veloci Su Vai fatto Fatto? Sì 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 Non credo Stavolta sei al pieno di sopra Non credo che avremo problemi Perché non ci sei mai andato E quindi ci sei andato ora Ottima teoria Io in realtà mi volevo nascondere Nel bigliardino Ci ho provato I consiglini l'hanno visto Era geniale Però è andata male Perché praticamente mi volevo mettere dove si segna Ok Ma non ti fa entrare Ho provato anch'io quello Stef Certo che ci avevo provato È un peccato Dovevi pensarlo Che io ci avessi già provato Ma non lo so Perché sappiamo tutti Che col nascondino Non è che sei proprio un fenomeno Fere Senza offenza ovviamente Non vorrei mai offendere Il tuo orgoglio Però Sappiamo tutti No Fere Non ci muoio È già passato 30 secondi Ci muori stavolta È la dimostrazione Che non ci muoio Neanche stavolta Fere Perché 30 secondi sono passati Il mio nascondiglio Forse è più geniale Di quello del pianoforte E ti faccio il 2 a 0 È secco È palese Lo sanno tutti Quindi sei sopra qualche oggetto Steph the best nascondino ever Strano Quasi un minuto Quasi un minuto Ok Consolini ma Secondo voi Sei geniale Sei sopra qualche posto Esattamente sopra qualche posto Strano secondo me Non so che Che ragionamento ha fatto Per cui Io sono sopra Però Tipo che ti sei messo Dentro qualche oggetto particolare Altrimenti non sarebbe geniale Se fossi sotto un divano Steph Capisci? Non sarebbe così tanto geniale È geniale Perché tu non pensi Che si possa fare Dentro il forno Dentro il frigo Cosa in quello stile Però È un po' meno elaborato Però tu non pensi Che uno si può nascondere qua E invece C'è il cavillo per farlo E non è un bug Chiariamo Perché poi ogni volta Mi dà colpa dei bug Che qua non va bene È un bug sicuro 1 minute E 30 Passati Quindi Manca poco Per fare Vediamo Cosa c'è di particolare Dentro cui ti potresti nascondere Non sei dietro il bidone Non mi farai andare dietro il bidone Dietro l'oggetto non sono Potrei stare solo nei due side Perché dietro è troppo scomodo Devi controllare per due ore E non va bene Ok Che paura Ho misclicato una cosa Ed era un problema Ok E mi sa che ci siamo Un minuto restante Un minuto restante Per fare 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 Per trovare il suo caro Steph Ti do un indizio Sono al pieno di sopra Ok Così Come immaginavo Come immaginavo Però è andata al pieno di sotto Quindi E lo so Perché è difficile Difficile trovare Cosa c'è di particolare Dopo Cioè dove si può nascondere Steph È questa la stanza Perché stai controllando troppo Era solo per trollarti Sei dietro la tv Era solo per trollarti Mancano 35 secondi La lampada Vedete vedete Lei in una stanza uguale alla mia Sono tutte uguali le stanze al pieno di sopra Steph E non sta mai controllando Il genere di nascondiglio che io ho fatto Perché neanche pensa che si possa fare Neanche lo pensa 20 secondi cara Sei sul letto 20 secondi Sul letto Non lo so Magari sei nascosto sotto la lenzuola Ed è quello che non si poteva fare Sono lì Ma il tempo è finito Non sei lì Dove sei? Lì Sotto il letto Sì Ma non si può vedere Poi ero qui Quindi è come se stavo sotto Non si può vedere Diventa piccola Ma è impossibile Diventa piccola Passa in mezzo tra un letto e l'altro Guarda Neanche ci riesco Tra un altro e l'altro Tra qui forse No 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 C'è proprio un letto che ha più spazio degli altri Qua Quello di mezzo Quello di mezzo Lì 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 No neanche L'altro buco L'altro buco Non è un bug Forse è qui Eh esatto Dai cuscini Ma Stef Cioè non vale questo Io te lo dico Era impossibile vederti Guarda te ne farò uno altrettanto cattivo No Fer è finita Dovrei mettere No ne facciamo un altro No è inutile Vado a nascondermi Ciao Stef Ciao mi sto nascondendo Cerchiamo Guarda Hai perso È finita 2 a 0 Inutile Ho già pensato Non mi guardare È inutile fare il 2 a 1 È inutile Perché vuoi andare avanti Fer voleva tanto fare un altro round Ma perché pensavai poter entrare nei pesci Perché non posso entrare in mezzo ai pesci Stef E non si può quindi io immagino che tu non voglia continuare Sono qua dentro Stef Si è appena passato di fronte alla stanza Questa? Sì Ok Ok Allora Fer facciamo così Perché non posso andare in mezzo ai pesci scusa Allenati L'assistente segreto preparerà un'altra mappa E ci risuideremo nel nascondino con queste grandezze Si deve allenare Tu Stef Perché non sai combattere Ok E muori sempre Io non ne gioco più in nascondini No basta Adesso scatto anche io dopo chi mi ha ammazzato È vero? Può capitare questa cosa Bisogna stare assolutamente attenti Fer dove sei andata? Via Fuori dalla casa Me ne sto andando Qui c'è una barca Stef Me la prendo E ciao Io non farò mai più in nascondini con te Ciao Fer Ciao